Una frana in strada del Friuli è stato l'intervento più macroscopico causato dal maltempo fra quelli che hanno impegnato in giornata i vigili del fuoco. Massi e detriti caduti sulla carreggiata attorno alle 10 hanno reso necessario in un primo tempo la chiusura della via, poi dopo la messa in sicurezza è stata riaperta dalla polizia locale a senso unico alternato di marcia in modo da consentire il passaggio a veicoli e autobus. Sul posto sono stati posizionati degli appositi in attesa della rimozione dei massi che presumibilmente avverrà al termine della perturbazione battezzata dai meteorologi Poppea che porterà ulteriore maltempo nei prossimi giorni anche nella nostra area geografica. Fra gli altri interventi si segnale il soccorso a un canoista del circolo Canotieri Saturni in mattinata e una serie di chiamate per allagamenti e cadute di detriti da cornicioni e finestre infrante oltre che per alcuni semafori andati in tilt durante gli scrosci temporaleschi.